Buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo webinar. Io sono Fabio Iraldo, sono professore ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa di Management della Sostenibilità e oggi sarò il moderatore di questo interessante incontro. Il webinar si intitola Recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare che è già di per sé un claim ed infatti il sottotitolo di questo webinar recita il claim etico per le concerie. Cosa significa e come si certifica. Quest'oggi parleremo di questa nuova opportunità per le aziende del settore conciario, lo faremo con i protagonisti dello sviluppo di questa nuova opportunità a partire da Luca Voltri che è direttore di Unice e che ci inquadrerà questa opportunità di validazione di un claim etico riguardante questo particolare aspetto nel contesto di sviluppo del settore e competitivo del settore. Poi avremo Sabrina Frontini che è la direttrice di Icec e quindi diciamo l'ente che rilascia questa validazione, questa certificazione del claim che ci spiegherà come funziona e soprattutto qual è il messaggio che questa convalida, che questo claim trasmette ai destinatari e poi avremo tre testimoni nel percorso di adozione e di utilizzo di questo claim perché avremo le prime tre aziende che lo hanno ottenuto, che hanno ottenuto questa convalida, che hanno intenzione di utilizzare questo claim per le proprie strategie di sostenibilità e anche per le proprie strategie di corretta valorizzazione competitiva nei confronti del mercato. Le aziende che saranno presenti con le proprie testimonianze in una sorta di tavola rotonda che poi io coordinerò sono Dani, Rino Mastrotto Group e Incas che sono tre nomi diciamo particolarmente prestigiosi del settore a cui probabilmente molti di coloro che ci stanno ascoltando appartengono al settore in cui operano. Vi presenterò poi i protagonisti, le persone che parleranno e che daranno voce a questa esperienza quando inizieremo la tavola rotonda. Il mio ruolo oggi è duplice, da un lato introduco il tema in termini molto generali e poi dall'altro lato cercherò di favorire il confronto nell'ambito della tavola rotonda. Il contesto in cui matura questa che io considero una grande opportunità per le aziende del settore è un contesto in grande fermento. Il contesto in grande fermento ha molte diverse dimensioni, ha la dimensione industriale e della produzione, ha la dimensione del mercato e quindi della sensibilità dei consumatori e poi ha una dimensione non irrilevante che come tutti voi sapete condiziona molto spesso anche le scelte delle aziende che è la dimensione normativa. Ecco in queste tre dimensioni sta maturando una grandissima sensibilità a un tema che potremmo sintetizzare con una formula che è arcinota che è quella della economia circolare. Noi in università ci occupiamo molto del tema dell'economia circolare con riferimento soprattutto alla sua applicazione nei settori, il settore conciario è un settore con cui la mia università lavora con progetti di ricerca molto innovativi da tantissimo tempo e negli ultimi anni il tema dell'economia circolare soprattutto in questo settore ha assunto un valore non solo come dire simbolico e di richiamo non solo evocativo ma anche un valore molto operativo di valorizzazione nelle strategie aziendali perché questo settore ha un connotato che lo caratterizza che è molto fortemente ispirato all'economia circolare ma che nasce nel dna del settore stesso e non certo viene a essere ad emergere nel momento in cui viene cognato lo slogan dell'economia circolare. Questa forte caratterizzazione è appunto sintetizzata nel titolo stesso dell'incontro di oggi. Le pelli derivano da una filiera che nella gran parte dei casi riesce a valorizzare quello che è uno scarto di altre filiere in particolare uno scarto del settore alimentare. Questa connotazione che risulta ovvia a molti operatori del settore in realtà sta determinando un certo diciamo un certo potenziale di valorizzazione in termini di comunicazione al mercato perché quello che sta accadendo negli ultimi anni è chiaramente fortemente ispirato in termini di domanda dal mercato da una tendenza dei consumatori a ricercare prodotti che siano in grado di valorizzare la propria circolarità e quindi in tutti i prodotti si cerca di accentuare caratteristiche che per molti altri settori sono piuttosto nuove, talora anche abbastanza forzate perché si ricerca disperatamente la circolarità, l'essere circolare e operare nella logica dell'economia circolare e certe volte si vanno a forzare delle dinamiche. In molti settori invece come nel caso del conciario hanno la circolarità nel proprio dna e questa dimensione rappresenta una dimensione che deve essere comunicata. Deve essere comunicata perché spesso dagli stakeholder non è così conosciuta, ce lo diranno molto bene i relatori che seguiranno, in particolare Luca Voltri che ha una interessantissima presentazione di alcuni dati che dimostrano come spesso gli stakeholder ma anche i soggetti che operano sul mercato e quindi sui prodotti a valle, i prodotti finiti per cui le pelli conciate rappresentano un input produttivo molto importante, spesso non sono completamente avveduti di questa caratteristica e quindi il poter glielo comunicare in termini credibili, certificati, garantiti attraverso un meccanismo di tracciabilità di filiera può diventare un elemento di caratterizzazione forte. Certo gli interlocutori che stanno dall'altra parte cioè i clienti e anche il consumatore finale non sono interlocutori facili, lo sappiamo perfettamente, tutte le aziende lo sanno, sono interlocutori che hanno una parte di informazione, sono interlocutori che almeno nella nostra esperienza delle ricerche universitarie che abbiamo condotto negli ultimi anni sono fortemente influenzati e influenzabili per esempio dagli strumenti nuovi di comunicazione come quelli dei social o del web in generale che non sempre trasmettono delle informazioni che sono robuste e scientificamente fondate. Una delle ultime ricerche che abbiamo fatto soprattutto sulla generazione Z noi al Sant'Anna dimostra che i ragazzi dai 18 ai 24 anni quando devono acquistare un prodotto sempre prima raccolgono informazioni dai propri pari cioè da ragazzi come loro e le raccolgono sul web cioè dalle opinioni che vengono espresse dai loro pari sul web. Ecco questo meccanismo che è altamente democratico ha una potenzialità incredibile dal punto di vista del marketing e certe volte può anche dare delle distorsioni significative perché evidentemente queste conoscenze possono non avere un fondamento metodologico scientifico particolarmente. Come questi fenomeni possono essere superati è sicuramente attraverso meccanismi di credibilità, meccanismi basati su metodi scientifici e meccanismi basati sulla tracciabilità e la garanzia che chiami anche in corresponsabilità tra virgolette soggetti terzi cioè soggetti che hanno un ruolo di garanzia come per esempio gli enti di certificazione che devono validare attraverso un meccanismo come ci spiegherà bene Sabrina Frontini di verifica e poi di validazione che le cose vadano esattamente nel modo in cui l'azienda vuole comunicarlo al proprio stakeholder al proprio mercato. Le potenzialità però una volta che il mercato passa il messaggio chiaramente al consumatore, una volta che si riesce a far percepire esattamente qual è la caratteristica che contraddistingue la circolarità di un certo prodotto, vi assicuro che ha delle potenzialità altissime. Anche qui cito alcune esperienze di ricerca che abbiamo fatto recentemente alcune delle quali devono essere ancora presentate, le presenteremo fra poco, che ci dicono come dirà anche Luca che i consumatori soprattutto di certe fasce d'età ma in generale hanno incrementato la propria disponibilità ad acquistare prodotti che hanno un connotato, possono valorizzare le proprie caratteristiche in termini di economia circolare di sostenibilità molto molto elevato e questo evidentemente è destinato a cambiare i mercati. Se un'azienda ha un orizzonte di investimento di 10-20 anni è ovvio che oggi cominci già a pensare a come sarà il mercato tra 10-20 anni e quel mercato in prospettiva futura è sicuramente caratterizzato da quei consumatori, da quei clienti, soprattutto coloro che oggi hanno un'età ancora non troppo avanzata che però stanno già facendo di queste variabili delle variabili di scelta e di consumo. A questo punto si pone evidentemente una chiave di lettura molto più proattiva alle caratteristiche che le aziende possono far valere rispetto alla sostenibilità dei propri prodotti. Noi sappiamo perché appunto siamo stati partner del settore per tanto tempo così come lo sa evidentemente Sabrina che il settore conciario dal punto di vista della sostenibilità ha fatto passi da gigante ma non da ieri, da molti anni a questa parte e i passi da gigante che sono stati fatti sono stati costantemente mirati ad una innovazione progressiva e graduale verso livelli di sostenibilità sempre superiori. Da questo punto di vista è interessante notare come negli ultimi anni dopo un'epoca di corsa alle certificazioni generaliste che molte aziende hanno acquisito anche nel vostro settore con grandissimo merito fra le prime tra l'altro in Italia e in Europa, l'EMAS, la 14001 eccetera, oggi si sta assistendo ad una focalizzazione delle forme di certificazione perché si è capito che molto spesso occorrono degli strumenti più specifici, più precisi per poter rispondere a delle esigenze che arrivano da una clientela soprattutto industriale, pensate ai brand del fashion, che sviluppano attenzione su alcune particolari caratteristiche del prodotto che gli viene offerto. È l'unico modo per poter assecondare questo tipo di anelito, questa domanda che proviene soprattutto dai clienti industriali, essere capaci di rispondere anche punto per punto, non soltanto con la certificazione generalista. Questo noi abbiamo notato come fenomeno degli ultimi anni. La sostenibilità è sicuramente un concetto molto ampio e proprio perché è molto ampio necessita di essere sorretta e dimostrata attraverso tante piccole azioni che tutti insieme danno il quadro della sostenibilità. Per questo si stanno sviluppando iniziative come quella che viene presentata oggi, un'iniziativa che potrebbe apparire molto operativa, molto focalizzata su un aspetto, ma che in realtà dal punto di vista competitivo un'azienda può leggere anche come un cardine di una strategia complessiva di sostenibilità che ha bisogno di tanti puntelli operativi per poter appunto rispondere precisamente a domande che ormai il cliente, soprattutto il cliente industriale, fa in modo esplicito, anche se non sempre in modo organico e coerente, perché lavorando con tante concerie io posso anche permettermi di dirmelo, perché sono osservatore esterno sia rispetto ai brand clienti che ha le concerie che producono, non sempre il linguaggio è comune e non sempre le domande che vengono diciamo espresse per esempio nei questionarii per le vendor list, per la qualificazione dei fornitori da parte dei brand, sono di lettura univoca e molto chiari nella loro intenzione specifica di far dimostrare qualcosa. Però la tendenza è chiaramente quella, la sostenibilità sta salendo nelle priorità delle strategie internazionali di mercato, dei grandi brand che nella globalizzazione evidentemente hanno a che fare con tanti mercati diversi in cui si sta sviluppando l'attenzione alla sostenibilità e quindi riflettono questo sulla fine. Allora il tema di oggi è questo, da un lato le domande potrebbero essere come i mercati e gli stakeholder stanno esprimendo la loro domanda e perché questa opportunità può essere una risposta efficace, dall'altro come funzionano queste forme di certificazioni che sono più precise, più focalizzate, più diciamo circoscritte ma nello stesso tempo approfondite di quelle che siamo stati abituati a conoscere in passato e in ultimo e forse diciamo più importante di tutti come le aziende stanno reagendo a questa opportunità e se la considerano tale come intendono sfruttarla, cioè come intendono comunicare ai propri clienti trasmettendo quello che a buona ragione deve essere considerato un vantaggio competitivo soprattutto nell'era in cui di economia circolare ormai avete visto basta accendere la tv e parlano davvero dagli influencer agli scienziati con tutto quello che ci sta in mezzo. Allora io per questo volevo appunto introdurre il primo relatore che è Luca Boltri, l'ho già nominato diverse volte, vice direttore di Unice a cui chiederei questo quadro di contesto e so che lui ha cose molto interessanti da dirci. a te la parola Luca. Grazie mille Fabio, buongiorno a tutti. Fabio ha effettivamente già inquadrato alcuni dei punti chiave della presentazione di oggi e soprattutto di questo nuovo strumento, di questa iniziativa che è Unice e ICE che hanno messo in piedi. Il mio ruolo in questo webinar è quello appunto di darvi un po' il contesto entro cui è nata questa idea. Ho preparato una presentazione molto breve che adesso cercherò di condividere, ecco qua, ecco qua, molto breve per il semplice motivo che sicuramente per dare spazio agli altri relatori, a Sabrina Frontini di ICE che alle tre aziende che hanno già scelto questo strumento ma anche per poi dare spazio alle vostre domande. È un tema particolare, è un tema ovviamente legato al macrocosmo della sostenibilità che come accennava Fabio si compone di tantissime variabili soprattutto quando parliamo di pelle e di processo conciario, la partecipazione come abbiamo visto è numerosa e quindi confidiamo che vi siano anche delle curiosità o dei commenti a questa iniziativa a cui vogliamo dare il giusto spazio. Io parto, questa è la classica prima slide di presentazione di chi siamo e cosa facciamo, io non so se sia il caso di dirlo, comunque insomma Unice è l'associazione di categoria dell'industria conciaria italiana che è leader internazionale di settore storicamente per qualità, per valore delle produzioni, per innovazione tecnologica, per sostenibilità stessa, la nostra associazione fondata nel 1946 aderisce a Confindustria, il nostro obiettivo, la nostra mission è quello di promuovere gli interessi delle concierie italiane, rappresentarli, favorire l'innovazione e valorizzare il ruolo sociale e ambientale dell'industria conciaria e ovviamente quello di assistere le nostre imprese in tutte quelle che possono essere le esigenze legate a problematiche di carattere tecnico, commerciale e via dicendo. L'industria conciaria italiana, molti di voi lo sapranno già, è un attore chiave della filiera pelle, non solo in Italia ma anche in Europa, una filiera che in Europa è composta appunto da 40.000 aziende e 500.000 addetti ma anche a livello mondiale, è un'industria che conta per oltre il 60% in termini di valore della produzione in Europa e per oltre il 20% a livello glodale, è un ruolo di leadership, è un ruolo di leadership anche dovuto al fatto che ci si rivolge in maniera forte a quella che è la fascia più alta di mercato, l'alto di gamma che rappresenta per le nostre concerie circa il 40% delle vendite, è una fascia di mercato che per molti versi fa anche da stimolo sui temi della sostenibilità e la sostenibilità però dobbiamo sottolinearlo per le nostre concerie è un elemento chiave, io una cosa che avrò ripetuto forse fino allo sfinimento in molti eventi come questo la sostenibilità è un po' come l'ossigeno per l'industria conciaria italiana, senza sostenibilità non avremmo il settore che abbiamo in Italia, non avremmo la leadership che come dicevo prima ci permette tra virgolette di fare da trendsetter a livello globale per quanto riguarda il settore è un obiettivo prioritario anche per esprimere i valori stessi del prodotto perché come diceva giustamente Fabio il mondo sta cambiando, il mondo è anche già cambiato parecchio e nel concetto di qualità di un prodotto la sostenibilità ha un valore sempre maggiore e sempre crescente quindi è giusto dare alla sostenibilità la giusta attenzione, è giusto sulla sostenibilità fare i giusti investimenti, è giusto anche molto spesso della sostenibilità promuovere quelle che sono le eccellenze, i progetti, le iniziative che come dicevo prima fa di quel settore un esempio, un'eccellenza a livello internazionale. Noi come associazione cerchiamo di comunicare questo impegno delle concerie italiane verso la sostenibilità attraverso il per esempio il report di sostenibilità Unic che oramai pubblichiamo annualmente nel 2003 è arrivato insomma alla diciottesima edizione, quest'ultima edizione è correlata a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030, proprio questo con l'obiettivo specifico di calare all'interno di un contesto generale quelle che sono le attività, le iniziative, i dati, le performance, i risultati del nostro settore in ambito sociale, ambientale ed etico. I temi che compongono la sostenibilità della pelle del processo conciario, questo ovviamente se poi qualcuno di voi dà un'occhiata anche al nostro report, questo emerge in maniera chiara, sono tantissimi, toccano appunto la parte ambientale, toccano gli aspetti sociali, toccano l'etica di prodotto, l'etica di prodotto vuol dire, se c'è nato prima, trasparenza, tracciabilità, nel nostro caso per esempio anche attenzione al benessere animale, attenzione ai fenomeni di deforestazione, insomma se si vuole affrontare questo tema in maniera seria e noi cerchiamo di farlo in maniera seria, bisogna approcciare il tema in maniera olistica come si dice adesso, cioè a 360 gradi, deve essere un impegno che tocca tutti questi aspetti, poi è ovvio che un'azienda, un operatore, una conceria, un cliente può essere maggiormente interessato ad alcuni aspetti rispetto ad altri, questo va bene, però noi in quanto appunto rappresentanti del settore per noi è importante darvi un quadro il più completo possibile. Data questa introduzione la domanda che immagino si saranno fatti tutti, ma da dove nasce la necessità di creare appunto il claim recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare? C'era effettivamente questo bisogno? Quindi perché ci siamo messi con Icek a ragionare su questo tema? Allora innanzitutto, lo accennava benissimo Fabio prima, c'è la necessità di comunicare un'informazione tecnica essenziale su una caratteristica basilare della supply chain della pelle, una caratteristica basilare, essenziale che probabilmente, anzi sicuramente gli operatori del settore danno per assodata, è un po' tra virgolette uno dei fondamenti, insomma, probabilmente questo tipo di necessità 50 anni fa, se non di più, quando il mondo era completamente diverso, quando forse c'era una maggior fetta di popolazione che era maggiormente a contatto con quello che è l'agroindustria, quindi con l'allevamento, l'agricoltura, probabilmente non ce ne sarebbe stato bisogno. Nel 2021 questo bisogno c'è, c'è bisogno di comunicare alla supply chain, ai clienti, ai operatori, ai media, alla pubblica opinione, ai consumatori che la nostra materia prima, cioè le pelle grezze, vengono recuperate dalla filiera alimentare. Qual è l'altra ragione di fondo? È che c'è stato richiesto, cioè questo tipo di richiesta di informazioni viene fatta dai clienti. Adesso noi appunto, come dicevo prima, assistiamo le nostre concerie associate su tantissime richieste che in ambito di sostenibilità arrivano dalla clientela, richieste estremamente variegate su tutti gli aspetti a cui rapidamente accennavo prima, anche su questo aspetto, anche sull'aspetto di avere la garanzia che effettivamente le pelli grezze utilizzate dalla conceria sono recuperate dalla filiera alimentare, quindi sono, lo vedremo dopo, uno scarto, un sottoprodotto della filiera carne, della filiera latte, ma non è solamente una richiesta della clientela, è un'esigenza che noi sentiamo anche da quello che è, come sono stato accennato prima, dalla una percezione errata di una parte dei consumatori. Lo vedremo dopo, abbiamo come associazione un paio d'anni fa, abbiamo commissionato un'indagine di mercato nei confronti dei consumatori per capire quello che è il percepito della pelle, cosa pensano i consumatori del materiale, insomma i pregi, i difetti, le criticità, le eccellenze e i risultati sono stati per certità di sorprendenti e ci hanno sicuramente aiutati poi nella definizione di questa attività. Anche qui un piccolo inciso, cos'è un claim? Magari qualcuno se lo sarà anche chiesto. Il claim è semplicemente una breve frase capace di esprimere un concetto in maniera efficace e che viene utilizzata per sottolineare la peculiarità di un prodotto o di un servizio, non l'ho inventata io, è la definizione che ho trovato su Wikipedia e su altri siti. In poche parole, perché claim? Perché se da un lato abbiamo l'esigenza di comunicare un concetto che alla fine è tecnico, perché si tratta di recupero, si parla di sottoprodotto, si parla di un'altra filiera agroindustriale, cioè quella agroalimentare, quindi concetti che, per l'amor del cielo, l'uomo della strada o comunque il consumatore magari non è che ha sempre sotto mano, questo lo accennava bene Fabio prima, quindi la necessità di comunicare un concetto, chiamiamolo di carattere tecnico, però in maniera semplice. Ed è questa tra l'altro una delle maggiori sfide che noi come associazione, quando parliamo di promuovere la sostenibilità del settore, ci sta più a cuore, proprio perché ci siamo resi conto che la sostenibilità e diciamo tutti gli aspetti relativi all'impegno in ambito ambientale, sociale, se fino a qualche anno fa era tra virgolette un'attività per operatori di settore o comunque per funzionari che si occupavano di questo tema in maniera specifica, oramai è una parola sulla bocca di tutti, grazie al web c'è un maggiore accesso alle informazioni e quindi c'è anche una maggior facilità a reperire informazioni da questo punto di vista, quindi per noi era essenziale riuscire quindi a condensare in maniera accessibile a tutti quello che è appunto un concetto di carattere tecnico. Accennavo prima a questa ricerca che abbiamo commissionato un paio di anni fa sul percepito della pelle, una ricerca che si è concentrata su quattro paesi, quindi una ricerca a livello internazionale, non solamente sono stati intervistati consumatori in Italia ma anche in Francia, in Germania e negli Stati Uniti, qui vedete un po' i dettagli della ricerca e la ricerca è molto ampia e tocca ovviamente tra virgolette pregi e difetti, quindi aspetti positivi e aspetti negativi, qui ovviamente vedete più le criticità perché sono state le criticità che ci hanno portato anche a sviluppare questa iniziativa e una cosa che è stata detta dalla società che ha poi materialmente elaborato l'analisi è che le sostegno dei consumatori rivelano una preoccupazione per il benessere degli animali, è la prima preoccupazione percepita dal consumatore quando è stato chiesto un'opinione sulle problematiche legate alla pelle, leggete, abuso sugli animali, ovviamente con una percentuale diversa a seconda del mercato geografico di riferimento. Andiamo un po' più nello specifico, questo è proprio specifico sui under 35, insomma le generazioni più giovani che sono quelli che come dicevamo probabilmente sono il target principale per questo tipo di comunicazione, ho detto prima probabilmente 50 anni fa un'attività di questo tipo sarebbe stata vista come superfa perché era probabilmente molto più vicina a quello che era già la conoscenza diffusa da parte del consumatore, adesso non è più così. La pelle per una percentuale rilevante perché parliamo di percentuali 59, 49, 50% dei consumatori non è un prodotto sostenibile perché si uccidono gli animali appositamente per estrarne la pelle. Questa è una fake news se vogliamo metterci della malafede in quelli che affermano questo, ma è semplicemente anche una mancanza di conoscenza, ecco noi dobbiamo intervenire per cercare di colmare questa mancanza di conoscenza, ma il numero due abbiamo che la pelle non è un prodotto sostenibile perché gli animali vengono arrivati in modo massivo, anche qui non c'è una conoscenza specifica, reale su come avvengono gli allevamenti, sono allevamenti estensivi, intensivi per l'amor del cielo, ma questo sta diventando un po' anche un luogo comune, c'è un'informazione, detto in parole povere, un po' troppo superficiali. E il terzo elemento chiave anche qua con percentuali elevate è che gli animali vengono torturati prima di essere uccisi per migliorare la qualità della pelle. Qui entriamo poi appunto nell'arbitro del benessere animale, altro tema estremamente importante su cui sia come Unice che come Ece che stiamo lavorando, probabilmente dopo Sabrina vi accenderà anche alle nostre iniziative in corso sul tema, però ecco, importante per noi condividere con voi questi dati che probabilmente li avete, magari non da punto di vista quantitativo, ma da punto di vista qualitativo già l'avete percepito perché sennò probabilmente perché i clienti andrebbero a chiedere garanzie di questo tipo, perché evidentemente per i consumatori questo è ancora un punto interrogativo. Andiamo un po' più nel dettaglio di quella che è la realtà della supply chain, andiamo a dire che recuperiamo le pelli della filiera alimentare, vediamo quella che è la filiera della pelle e come il nostro settore si va a rapportare con la filiera a monte. Lo vedete da sinistra a destra, gli animali vengono allevati, quali sono i prodotti per cui vengono allevati? La carne, la lana, i prodotti caseari, gli animali poi alla fine del ciclo di vita entrano ovviamente nel macello, al termine del processo d'abbattimento la pelle grezza viene convogliata verso impianti di conservazione e poi entrano nel processo conciario. Parliamo di pelli grezze, perché è questo il cuore, le pelli recuperate delle filiere alimentari, pelli grezze, ma ce lo chiedono tantissimo, ma che tipo di pelli vengono lavorate dalle concerie italiane? Allora, se segmentiamo la produzione conciaria in Italia per topologia animale, le percentuali sono quelle che vedete in questa slide. Il 77,1% si tratta di bovine adulte, bovine medio-grandi, 6,8% vitelli, 8,8% ovine, 6,9% capre. La rimanente parte, lo 0,5% sono nicchie di mercato legate, riferibili a pelli suine, piuttosto che pelli di rettili, piuttosto che pelli di cangure e cifre, ma come vedete è una nicchia di mercato. Oltre il 99,5% della materia prima delle concerie italiane ha origine bovina e ovicaprina, e si tratta di bovini e ovicaprini che vengono allevati e abbattuti per finalità alimentari. Per quanto riguarda le ovine c'è anche la finalità legata alla produzione della lana, ma principalmente il prodotto principale è questo. Il prodotto principale è anche il latte, scusate, non è solo carne, ma anche latte. Parliamo di filiera alimentare in senso ampio. di conseguenza, cos'è la pelle grezza? È un sottoprodotto, anche questa parola qui oramai probabilmente sta diventando quasi annoia, era una parola tecnica fino a qualche tempo fa, adesso sta diventando una parola un po' più di senso più comune. Abbiamo detto che la produzione di pelli grezze è una conseguenza della produzione di carne e latte, le dinamiche di offerta delle pelli grezze, cioè i livelli di macellazione degli animali, quindi tutto quello che va a influire sul numero degli animali allevati e di conseguenza poi sul numero di animali abbattuti, sono interamente legate alla domanda e al consumo di questi prodotti alimentari. Concetto di prodotto, altro concetto di sottoprodotto. Ora, molto spesso ci viene chiesto, ed è un po', non è così semplice, di avere delle, come dire, cos'è che ci può garantire che effettivamente la pelle grezza, bovina e ovicaprina, è un sottoprodotto della filiera alimentare. Chi ci garantisce che in realtà l'animale non è stato elevato per la pelle? Beh, innanzitutto ce lo garantisce, siamo in Italia, siamo in Europa, l'Unione Europea. Abbiamo detto che la pelle grezza è un sottoprodotto, il regolamento 1069 del 2009 è relativo alle norme sanitarie relative alla gestione dei sottoprodotti di origine animale, dei SOA, gli Animal By Products in inglese. Tra questi sottoprodotti di origine animale vengono specificatamente definite anche le pelli grezze, bovine e ovicaprine. Quindi non lo diciamo noi, lo dice la Commissione Europea, proprio per questioni anche di gestione sanitaria. Parliamo di prodotti di relazione organica, di conseguenza vi è tutta una normativa sanitaria. Ma quindi il concetto di sottoprodotto è un concetto, diciamo, di carattere istituzionale. Ma dal punto di vista economico siamo proprio sicuri che nella realtà dei fatti è un sottoprodotto e qui ci viene in aiuto un report recente elaborato dalla Montana State University, è un'analisi di maggio, dello scorso maggio, che ha voluto proprio mettere in relazione da un punto di vista econometrico, se la domanda di pelli aveva qualche effetto sulla produzione di pelli grezze, quindi vale a dire sui livelli di macellazione e quindi vale a dire sul numero di animali allevati. Perfetto, sono stati presi in considerazione una moltitudine di dati che, non sto qua adesso a elencarvi 25 anni di dati economici relativi a bovini allevati, bovini macellati, dati sui prezzi dei mangini, sui prezzi della carne, sul prezzo delle pelli e quella che è stata la conclusione è che non vi è nessun effetto diretto. Vale a dire, in sintesi, quello che ci interessa, il numero di bovini allevati rimarrebbe invariato anche se il mercato smettesse di usare la pelle. Questo è una cosa essenziale da dire, tra virgolette, anche a certi movimenti di opinione animaliste particolarmente radicali che continuano a parlare di coprodotto, che continuano a parlare di animali allevati per la pelle. Non è vero. Se un domani l'industria conciaria sparisse, il numero di animali allevati sarebbe esattamente lo stesso, proprio perché gli animali vengono allevati e abbattuti per esigenze alimentari e cerchiamo qui, questa è l'ultima slide, di andare un po' più anche nel dettaglio su perché abbiamo costruito il claim in questa maniera. Recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare, perché la scelta di queste parole specifiche? Recuperiamo. Prima parola perché è un recupero di un sottoprodotto, di un bene primario. Non stiamo parlando di un bene di cui possiamo fare a meno, di un bene primario, carne e latticini. In alternativa, le pelli grezze sarebbero trattate come uno scarto, quindi uno scarto che diventa sottoprodotto, che viene, tra virgolette, riciclato. Questo dato è essenziale, secondo me. Ogni anno l'industria conciaria recupera 8 milioni di tonnellate di pelli grezze bovine e ovicaprine. Le trasforma in 1700 chilometri quadrati di materiali per la moda, per l'arredo, per il design, per l'industria dell'auto. Senza questa attività di recupero, senza questa attività di reciclo, queste pelli che verrebbero comunque prodotte, le abbiamo visto prima, andrebbero sbruciate o smaltite in discarica, con notevoli costi economici e ambientali. Smaltire, bruciandole, queste 8 milioni di tonnellate vorrebbe dire una produzione aggiuntiva di gas sera di 6,6 milioni di tonnellate. Quindi, quando ci vengono a dire che la pelle non è un'attività sostenibile, quando la pelle fa male al pianeta di usa conciaria, questi sono i dati reali. Il fatto che noi recuperiamo uno scarto e se non ci fossimo noi a fare questa attività di reciclo, io lo dico anche molto spesso, siamo quasi spazzini noi dell'industria conciaria, dell'industria alimentare. Questo ci deve essere riconosciuto e qua entra in gioco il secondo concetto, lo accennava prima Fabio, essenziale, che è la circolarità del processo. L'attività conciaria è un'attività estremamente circolare. Adesso c'è un'attenzione spasmodica verso l'economia circolare, la circolarità dei processi di produzione, il Green New Deal della Commissione europea lo ha specificato in maniera molto chiara, il piano d'azione per l'economia circolare dell'anno scorso lo ha definito in maniera essenziale. Beh, signori, l'industria conciaria e la pelle come materiale secondo noi è assolutamente il materiale perfetto da questo punto di vista. Questo claim questo claim va semplicemente, e qui riprendo un po' un'espressione che ha detto Fabio all'inizio, quasi un'ovvietà. Riprende forse un'ovvietà, però questo ovvietà ai giorni nostri non lo è più e diventa essenziale comunicare anche una cosa che per noi è normale, è naturale. Non tutti conoscono il nostro settore, è importante fargli capire che recuperiamo e che recuperiamo dalla filiera alimentare. Grazie, io finisco qui, rilascio la parola a Fabio e poi ci risentiamo eventualmente dopo per le domande. Grazie Luca, grazie molte, grazie molte. Credo che tu abbia messo in luce molte chiavi di lettura che sono estremamente interessanti anche per la tavola rotonda che avremo e sicuramente anche per le domande che proverranno da chi sta partecipando. La chiusura è assolutamente in linea con una possibile assist per Sabrina, nel senso che molte volte le aziende si lamentano dell'eccessiva attenzione delle certificazioni a voler sottolineare aspetti che le aziende danno per consolidate nella propria gestione. Ma la certificazione è proprio questo. Chi assevera in realtà sta dicendo cose che apparentemente possono sembrare ovvie a chi le conduce, ma in realtà sono assolutamente dirimenti per chi invece deve essere destinatario di una certa garanzia. E noi sappiamo quanto effettivamente sul mercato il tema della garanzia del recupero di uno scarto oggi sia caldissimo. Lo è non nel vostro settore, lo è per le plastiche, lo è per la carta. Pensate a questo discorso riflesso su tutti gli altri settori che utilizzano materie prime e seconde per cui c'è bisogno di una certezza e di garanzia che ciò effettivamente avvenga in una filiera tracciata. Questo tipo di garanzie legittimano e anzi auspicano il ruolo degli enti di certificazione che di fatto ormai hanno assunto veramente una funzione da protagonista in queste dinamiche perché costituiscono un anello di congiunzione tra chi ha bisogno di una garanzia e chi magari non troppo consapevolmente però sta ormai maturando la decisione e la necessità di comunicare. Ecco, io chiederei appunto a Sabrina di spiegare perché questo ruolo è importante e come funziona in particolare la certificazione del claim etico da, come dire, input da filiera alimentare che, come diceva Luca, potrebbe sembrare naturale ma in realtà è una forma che può essere ulteriormente avvalorata e rafforzata soprattutto nei confronti di interlocutori che non hanno completa visione su tutto quello che accadde nella filiera della concia. Bene, grazie Fabio. Io ringrazio te e Luca per le vostre introduzioni sicuramente molto importanti e noi ovviamente siamo la chiave di lettura coloro che chiudono il cerchio su queste tematiche con la certificazione di sostenibilità quindi che si sfaccetta poi in tutti gli aspetti che sapete ambientale, sociale, salute e sicurezza, abbiamo lavorato su tantissime tematiche, su certificazioni di sistema ma anche come dicevate voi su quelle che sono poi le certificazioni di prodotto perché comunque tutti i clienti delle concerie quando poi vanno a qualificare i propri fornitori hanno sempre un punto in comune di interesse di andare a qualificare quella che è la materia prima che la conceria sta comprando. Ecco perché alla fine ci ritroviamo sempre a parlare di tracciabilità, di animal welfare e quindi di sviluppi di queste o di pelle ecologica anche per esempio ultimamente che è stata molto una certificazione di prodotto molto interessante o di made in che ormai abbiamo trattato da tanti anni ma alla fine queste certificazioni di prodotto diventano importanti e complementari anche per tutti gli altri schemi. Comunque il tassello di verifica sulla tracciabilità c'è quasi sempre e ovviamente questo claim per noi diventa qualche cosa che è possibile gestire in modo integrato a questi aspetti di tracciabilità della materia prima. Vado anche io a condividere una decina di slide molto veloci, non vi porto via più di dieci minuti per avere un'infarinatura sulle modalità di controllo. Ovviamente non è questo il webinar in cui dare troppi dettagli ma giusto una panoramica per poi rimandare eventualmente delle domande più specifiche. Quindi vado a condividere anch'io la mia presentazione che poi se volete sarà disponibile per chi fosse interessato. Ecco sostanzialmente il claim recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare abbiamo già detto che si basa su delle parole chiave già descritte per cui c'è un recupero della pelle che è un byproduct della industria alimentare che viene nobilitato dalla filiera alimentare che è sostanzialmente dedicata alla produzione della carne, del latte, di tutti quelli che sono i derivati. Il claim è una frase sintetica che però come dicono anche degli standard che sono recentemente stati emessi in materia, in materia di claim etico ricordiamoci che proprio nel 2020 è uscito lo standard Uni ISO TS 17.033 che definisce i principi e requisiti per sviluppare e formulare queste asserzioni etiche proprio per uno sviluppo responsabile e sostenibile delle aziende. Alcuni punti cardine sono legati al fatto che questi claim devono essere comunque semplici, veritieri, anche verificabili e non soltanto emozionali e non fuorvianti per il consumatore proprio perché altrimenti il consumatore si trova confuso e non capisce qual è la sostanza che sta dietro a un claim. Questo è il motivo per cui abbiamo definito il claim con queste poche parole che però devono essere precise e anche verificabili. Ovviamente il nostro percorso di certificazione si è ispirato ai principi dello standard, non escludiamo che un domani possa essere di base per un eventuale anche processo di accreditamento, per il momento stiamo gettando le basi poi ci diranno i numeri se possiamo procedere in questo senso. Filiera alimentare vuol dire che stiamo trattando e questo lo specifichiamo anche nei documenti di verifica di tutto ciò che proviene al 99% da questa filiera alimentare, quindi tipologie bovini, ovini, caprini, maiali, non stiamo al momento analizzando altre specie come per esempio gli esotici, le pellicce, i canguri o altro, semplicemente perché ovviamente queste tipologie di filiere richiederebbero un'analisi specifica su quelle che sono le motivazioni di abbattimento prima di usare qualsiasi claim. Invece nel nostro caso noi vogliamo dare evidenza attraverso la verifica che l'abbattimento sia venuto ai fini alimentari. Abbiamo impostato un sistema di tracciabilità delle pelli perché in sostanza si tratta di vedere cosa succede sul pellami che le aziende e le concerie si portano in casa, che essi siano grezzi o semilavorati non importa e quindi abbiamo una raccolta di informazioni documentate e da noi verificate che è molto simile a quella che avviene nel caso delle certificazioni di tracciabilità che credo conosciate già dai TS 410-412 che abbiamo molto applicato nelle nostre concerie. Perché ci concentriamo su una documentazione, su raccogliere dei documenti che provengono e che si riferiscono ai macelli perché comunque al macello in ogni caso l'animale arriva. Quindi questa slide vuole semplicemente riassumere il ciclo di vita, quella che può essere come esempio una bovina adulta per cui se una bovina per esempio da latte avrà una serie di cicli di inseminazione e di parto che poi le consentono di produrre il latte ma comunque alla fine della sua carriera finisce in un macello. E anche quello che è il vitello a seconda che sia maschio o femmina, se è maschio va direttamente in una filiera della carne, se è femmina ripercorre il ciclo ovviamente che abbiamo detto della madre. Quindi il nostro lavoro sarà quello di recuperare i documenti che provengono e che passano comunque attraverso le informazioni del macello perché quello comunque è l'imbuto per tutte queste tipologie di animali. Noi abbiamo creato dei documenti di riferimento a supporto della certificazione che sono la solita specifica tecnica che in questo caso è anche il programma di verifica che contiene i requisiti per fare l'audit, il regolamento che poi si abbina alla certificazione con tutta una serie anche di informazioni aggiuntive come sapete per trattare le frequenze, le anomalie e quant'altro e una mappa Excel anche in questo caso di raccolta dati di quelle che sono gli acquisti dei pellani. Come viene verificato questo claim? Allora è una certificazione di prodotto non di sistema ovvero bisogna sempre specificare a quali pelli si abbina il claim e quindi su quali pelli verrà fatto il controllo. Poi questo vuol dire che magari c'è chi sceglierà di fare il claim solo su alcune pelli e chi invece lo vorrà abbinare a tutta la produzione però nel certificato ci saranno sempre i nominativi delle pelli, la categoria delle pelli a cui si riferisce il claim. La raccolta dati avviene su 12 mesi di ordini di acquisto attraverso un foglio Excel, la frequenza delle verifiche annuali quindi tutte le volte che andiamo in odi per ricolleghiamo i vari dati degli anni successivi con quelli degli anni precedenti, non accettiamo mai autodichiarazioni della conceria e invece andiamo a richiedere che almeno il 75% in volume di tutti quelli che sono gli ordini mappati di acquisto debbano avere abbinata una serie di documenti che attestino la provenienza delle pelli da macelli che sono autorizzati e operativi per la filiera della carne. Non avremo un rating finale quindi avremo solo un claim con l'indicazione dei prodotti a cui si riferisce perché non era il caso qua di complicare troppo le cose e poi nella specifica tecnica ovviamente ci sono una serie di requisiti per raccogliere e gestire in modo ordinato quelli che sono i dati. Qualche esempio di evidenze documentali oggettive del controllo quindi documenti che possiamo trovare che si possono anche abbinare e che noi richiediamo al lato del controllo quindi possiamo avere delle dichiarazioni del fornitore della conceria quindi direttamente dai macelli degli intermediari riferiti a quelli che sono i lotti acquistati e venduti con le informazioni appunto sulle tipologie di macello e la loro operatività nella filiera alimentare e o quindi si possono anche abbinare documenti che riportano l'identificativo, il codice del macello autorizzato e che poi si riferiscono o al regolamento 853 o al 1069 che è stato citato prima che regolamenta ovviamente la produzione di alimenti di origine animale il primo e il secondo ciò che avviene in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e poi ovviamente ci può essere anche una evidenza che deriva dalla valutazione di quelli che sono siti internet di questi macelli che sono esplicativi delle attività svolte. Il tutto deve essere ovviamente riferito alle pelli che ci stiamo portando in casa. I percorsi di certificazione possono essere due, le aziende possono scegliere di far validare solo il claim e quindi fare un lavoro comunque ottimo ma limitato alla validazione del claim oppure sostanzialmente integrare la valutazione del claim alle verifiche di tracciabilità delle pelli perché la raccolta dati è praticamente identica, allora si fa la tracciabilità, si abbina il claim e poi la parte interessante è che stiamo facendo anche un progetto di animal welfare su queste certificazioni di tracciabilità quindi questo diventa veramente il percorso più completo per soddisfare anche al meglio le esigenze dei clienti che ovviamente sono complete su questa materia. Il discorso dell'animal welfare è un progetto che stiamo trattando quest'anno anche grazie al supporto di alcuni esperti esterni molto bravi in tema di esperti in tema di approvvigionamento di animal welfare ed è la base di partenza è proprio questa certificazione di tracciabilità che ci consente di aver raccolto i dati da parte delle concerie di cosa si sono portati in casa, da quali origini, di quali fornitori e quindi quando abbiamo questo materiale poi noi dell'ICEC con questi consulenti esterni facciamo una analisi di rischio che però è customizzata su quelle che sono le certificazioni rilasciate. Faremo l'analisi di quelle che sono le leggi applicabili in quei paesi di origine ma anche di tutti quelli che sono, se esistono, i protocolli volontari abbinati alla supply chain di quei pillami acquistati. Quindi certificazioni, best practice se ci sono, vediamo anche i contenuti e alla fine ne esce in modo oggettivo, assolutamente imparziale e oggettivo, un'analisi di rischio che noi daremo alle concerie. Quindi sarà la conceria ad avere indicazioni su questo rischio associato alla sua specifica supply chain ed è un lavoro che stiamo finendo e trattando adesso, sarà pronto per fine 2021 e sarà applicabile dal 2022. Come dicevo prima i percorsi sono due, le verifiche sono annuali, se valutiamo solo il claim, l'audit è di circa mezza giornata, se facciamo il percorso più completo si abbenerà alla verifica di tracciabilità anche qualche ora supplementare per l'audit del claim, invece l'analisi del rischio sull'animal welfare sarà assolutamente un percorso facoltativo che farà chi lo desidera e sarà eventualmente un costo aggiuntivo che verrà quotato alla fine del progetto. L'ultima slide per poi lasciarvi spazio per il panel che sarà sicuramente interessante, qualche numero sulle certificazioni rilasciate, nel caso del claim sono ad oggi tre emesse ma siamo veramente partiti in questa estate quindi recentissimamente, sono tre concerie italiane che oggi sono tutte e tre e li ringrazio anch'io presenti a questo panel, sono entrambi aziende, tutte aziende che hanno certificato i loro pellami di tipo bovino o vitello e che hanno scelto di fare il percorso integrato con la tracciabilità. Schema di tracciabilità che vede già da parte nostra 80 certificazioni emesse circa una ventina in corso tra l'altro anche con clienti non solo italiani ma addirittura extraeuropei quindi direi che insomma è stata una buona esperienza e soprattutto anche ci dà il materiale per poter dialogare con le case moda su quelli che sono le difficoltà di fare questi schemi di certificazione perché niente è semplice, niente è dato per scontato e quindi anche grazie un po' alla nostra apertura mentale di far capire effettivamente in relazione a quelli che possono essere dei rating quali sono stati i percorsi anche di miglioramento delle aziende impegnate in queste attività. Fabio ti ripasso la parola, vi ringrazio dell'attenzione e se ci sono domande poi le affronteremo passiamo al panel a questo punto. Grazie, grazie mille Sabrina, devo dire anche in questo caso la relazione si chiude davvero come un assist all'inizio, come un incipit molto efficace per la tavola rotonda rendendo il mio ruolo veramente molto facile perché come diceva Sabrina gli spunti sia sul funzionamento del percorso della certificazione del claim sia derivanti dalla relazione di Luca Voltri sul contesto sono di fatto i due ingredienti per le domande che io volevo porre a chi ha appunto accettato molto gentilmente di portare la propria testimonianza. Ora li posso presentare quindi vi prego anche di attivare la vostra videocamera sono Andrea Sapri della Conceria Dani, Cecilia Fochesato di Rino Mastrotto Group e Piero Rosati di Incas. Come vi dicevo appunto nomi di aziende conosciute nel settore che hanno intrapreso questo percorso e come diceva Sabrina naturalmente lo hanno fatto in tempi molto recenti quindi non possiamo aspettarci di chiedere ai nostri testimoni, alle nostre testimoni di darci già un flavor, una sensazione di quella che è l'efficacia di questo strumento però a mio modo di vedere sono due gli aspetti che possono interessarci particolarmente come platea e mi metto naturalmente dalla parte della platea interessatissimo ad avere queste indicazioni. Da un lato quali sono i fattori competitivi e di sviluppo strategico che hanno indotto i decisori di queste aziende seduti anche intorno a questo tavolo virtuale ad intraprendere questa strada e quindi perché hanno deciso di cogliere l'opportunità offerta da questo claim della sua certificazione, quali sono le pressioni o le manifestazioni di forme di interesse che sono state percepite magari dai clienti, magari in modo confuso come dicevamo prima o dai partner commerciali che hanno indotto a pensare forse questa può essere una risposta e che tipo di benefici ci si attende. E poi l'altra invece faccia della medaglia è proprio legata a quanto dicevamo in apertura e a quanto poi Luca e anche Sabrina hanno messo in evidenza, cioè lo strumento è uno strumento che comunica e che valorizza dal punto di vista competitivo qualcosa che molti danno per assodato ma ancor di più magari scoprono come un aspetto legato al tema molto di moda dell'economia circolare che può dare qualche tipo di credito e può essere se non altro di conforto a chi poi deve scegliere dei prodotti sul mercato. E allora l'altra grande appunto domanda è come si pensa di utilizzare questo claim certificato, tipo come leva di sviluppo per lo sviluppo del business, nei confronti di particolari segmenti di clientela o di stakeholder a cui si vuole far arrivare questo messaggio in modo più robusto di quanto non accadeva in passato, oppure come si pensa di comunicare questo claim in generale per far leva su una migliore competitività nei confronti magari anche di altri materiali, di altre alternative che per esempio alcuni clienti come i brand del fashion hanno a propria disposizione nelle proprie scelte verso cui potrebbero orientarsi e quindi come logica differenziale magari anche qui ispirata al concetto di economia circolare. Io farei di questi due grandi interrogativi l'argomento di due giri di tavolo, quindi andando nell'ordine chiederei queste domande ai relatori e dopo il primo giro passiamo al secondo argomento e poi magari apriamo anche alle domande che possono venire dalla prete che ci sta ascoltando. Andrei nell'ordine dell'invito e quindi comincerei con Andrea Sapri, a cui appunto chiedo conto di qual è stato il percorso anche di maturazione di questa scelta, inquadrata in una strategia di sostenibilità, maturata in seguito a opportunità, intraviste con alcune tipologie di clientela e quali sono i benefici che ci si attende da questa certificazione. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Tocca a me rompere il ghiaccio allora come, diciamo, testimonia di questa esperienza. Allora, sicuramente mi sento di dire che nella nostra azienda questo tema permea ormai le scelte aziendali, il tema della sostenibilità in genere ormai da diversi danni, io penso più di una decina d'anni. È un tema, quello della sostenibilità, veramente molto molto vasto che a noi piace definire come un percorso, come un sentiare, una strada da percorrere dove ci sono veramente moltissime tappe che toccano gli argomenti più svariati. e ringrazio infatti, diciamo, i reglatori che mi hanno preceduto perché hanno colto effettivamente, secondo me, i punti veramente più importanti, ovvero che siamo passati nel corso degli anni a, diciamo, concentrarci su tematiche molto amplie come quelle di sistema ad andare sempre più, secondo me, a, diciamo, focalizzarci su aspetti molto molto puntuali che però poi abbiamo visto in realtà abbracciano veramente tanti temi. Nel caso specifico, per esempio, quello legato agli aspetti etici, sociali, di animal welfare legati appunto a questo tema, nel nostro caso, ci hanno consentito, diciamo, di abbracciare un tema della circolarità e della filiera in maniera molto organica. Sono aspetti che appunto, come abbiamo ascoltato, possono sembrare a volte forse, diciamo, banali dove, diciamo, lo sforzo non è, magari non è gestificato. In realtà, anche noi, attraverso, insomma, le nostre indagini con i nostri clienti, ci siamo resi conto che i consumatori, i nostri clienti, sono sempre molto più attenti e cercano molto di informarsi su queste tematiche che portano consapevolezza alla fine verso anche l'utilizzatore finale. In questo caso, appunto, poter fare questo tipo di percorso dove ha comportato in realtà un lavoro molto importante perché si è cominciato anche a lavorare a monte, nel nostro caso appunto della conceria, ovvero di andare anche a cercare informazioni, a richiedere informazioni lungo tutta la catena di fornitura, è diventato in realtà poi molto sfidante perché, come sempre, quando, e noi siamo i primi, quando si parte, ci sentiamo un pochettino anche pionieri di queste attività e non è sempre facile perché si devono a volte magari sfondare qualche muro di, diciamo, di resistenza e bisogna spiegare, bisogna far capire che poi a quello che può sembrare una banalità, in realtà dietro ci stanno dei concetti che in questo momento sono strategici, cioè per la Dani questi concetti da poter poi portare i nostri clienti in maniera strutturata, in maniera oggettiva, in maniera trasparente diventa fondamentale e quindi mi sento di dire appunto che nel nostro caso è stato sicuramente un percorso stimolante che si è ovviamente integrato all'interno di una strategia più ampia che poi abbraccia anche molti altri aspetti della sostenibilità ma che comunque poterli, diciamo, presentare ai nostri stakeholder in maniera strutturata, non come si diceva prima come un'autodichiarazione ma con alle spalle un lavoro come quello che ha fatto l'associazione e l'ente di certificazione dove appunto ha preso una normativa nuova di pochissimi anni probabilmente anche con poca possibilità di confrontare con altri settori ha comunque fatto vedere la serietà e tutto il lavoro che c'è stato dietro Grazie mille, grazie mille questo è un elemento che effettivamente, sì, Sabrina l'aveva detto ma forse io non l'avevo enfatizzato ed è un elemento in cui io credo molto è vero che le aziende certe volte vengono in qualche modo spiazzate dal dover affrontare queste cose da sole perché fare un claim autodichiarato talora espone molto di più che addirittura stare zitti e non dire nulla nel senso che quando l'azienda si mette in prima linea effettivamente poi le reazioni dall'altra parte sono di diverso tipo e vanno gestite poterlo fare in un'ottica e in un contesto in cui vi sono garanzie c'è un lavoro metodologico molto forte fatto prima e ci sono delle garanzie che possono essere provate evidentemente da una marcia in più questo è un elemento che sta succedendo molto effettivamente devo dire soprattutto nella logica della lotta al greenwashing che è un fantasma che non abbiamo nominato ma che prima o poi dobbiamo nominare il greenwashing evidentemente sappiamo è un rischio troppo forte che non vale la pena di essere corso perché poi i ritorni negativi possono essere anche peggio dell'essere stati zitti, buoni e tranquilli e non aver deciso di perlustrare invece se si decide di fare dei passi avanti è opportuno farlo con degli elementi di forza e credibilità significativi grazie mille, tornerò nel secondo giro approfitto di questo cambio di protagonista della tavola rotonda per dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se vogliono porre delle domande ai relatori possono iniziare a farlo da ora e vedo che c'è già chi ne sta approfittando con la funzione domande e risposte che è quel simbolino che vedete circa a metà delle icone sul basso dello schermo che è DR oppure Q&A per chi ha la versione inglese lì potete digitare le vostre domande le vedrò io come moderatore poi io le riporterò, spero tutte al panel o anche a Luca e a Sabrina se sono rivolte più a loro o loro hanno competenza o eventualmente le domande che non riesco a riportare rimangono in evase cercheremo di rispondere poi successivamente per iscritto vi ringrazio molto e io me le eloggerò nel frattempo passiamo alla seconda relatrice che ringrazio molto per la partecipazione che è Cecilia Fochesato che vedo in realtà in compagnia anche di molti colleghi di Rino Mastrotto Group a cui appunto pongo il tema della motivazione perché questa scelta quali sono i fattori competitivi che l'hanno spinta in come si inquadra nella strategia di sostenibilità dell'azienda e appunto che cosa ci si aspetta di ottenere da questo tipo di garanzie Buonasera a tutti io sono qui presente con altri colleghi del team trasversale a tutte le nostre divisioni produttive perché ci occupiamo di sostenibilità insieme in modo da coprire le richieste di tutti i clienti dal brand della pelliteria al settore della carrozzeria al settore dell'arredamento e ringrazio voi intanto redattori per averci invitato ringrazio per tutti gli interventi che avete già esposto perché penso siano tutti perfettamente condivisibili e almeno io personalmente ma sono sicura anche i miei colleghi insomma siamo allineati con tutto quello che avete detto noi devo dire la verità pressioni specifiche a riguardo a questo argomento non le abbiamo particolarmente ricevute se non qualche caso spot però indirettamente attraverso la richiesta di compilazione ad esempio di domande in qualche questionario penso più alla casa mobilistica che manda i questionari da compilare a tutti i suoi fornitori che quindi tratta il settore pelle come il settore metallo il settore plastica cioè ci chiedeva quanta percentuale di recupero quanta percentuale di cioè rigenerato o rinnovabile tu hai nella tua materia prima di partenza ecco che a questo punto cioè anche se non è giusto paragonarci con l'industria del metallo con l'industria della plastica ritengo che ci venga d'aiuto quello che abbiamo deciso di implementare quello che abbiamo deciso di portare avanti perché possiamo cioè dichiarare con massima trasparenza senza ambiguità e con il certificato guarda io recupero il sottoprodotto io valorizzo il sottoprodotto quindi a quella domanda io ti rispondo cento per cento perché altrimenti sarebbe uno scarto un rifiuto questa è stata una delle prime motivazioni che ha fatto sì in realtà poi di tutto è arrivato a questa conclusione per il confronto che abbiamo avuto con l'ente di certificazione perché noi abbiamo approfittato dell'audit che abbiamo effettuato specifico per il sistema di gestione della tracciabilità secondo le specifiche TS 412 che prima la dottoressa Frontini ha citato vedendo questa nuova certificazione come un addendum e come un completamento al percorso che stiamo portando avanti specificatamente su tracciabilità Animal Welfare che sono argomenti molto importanti per tutti i clienti con cui stiamo lavorando dai brand alle case mobilistiche non solo i clienti ritengo di dire sono i nostri stakeholders principali mi viene in mente io non so i ragazzi soprattutto mei dei superiori che vengono a visitare la cuceria la premessa che facciamo è sempre ragazzi da dove arriva la pelle che lavoriamo qualcuno dice uccidete gli animali per la pelle ma la maggior parte risponde boh cioè non si pongono neanche il problema e io forse ve le insegnate la mia direzione però sono contenta di questo è sempre la premessa che facciamo ragazzi guardate che recuperiamo sotto il prodotto e quindi abbiamo ben colto insomma questa occasione di volere certificare questo input che ci è arrivato da più parti per provare a vedere se riusciamo a dare questo valore aggiunto c'è in realtà un qualcosa che per noi è ovvio per noi è scontato cioè potremmo fare penso tutti l'autodichiarazione l'autocertificazione perché le nostre pelli provengono esclusivamente dalle filiali alimentari ecco grazie mille grazie mille è molto chiaro devo dire che a un certo punto mi avete visto sorridere perché come molti di voi forse sanno con Unice abbiamo intrapreso una strada sull'economia circolare che aiuta le aziende a misurare il livello di economia circolare tra l'altro stiamo parlando anche con Sabrina di come stendere di come eventualmente ricondurlo anche ad una forma di validazione e le prime volte che l'abbiamo applicato evidentemente arrivavamo con una domanda molto ingenua cioè ma voi in conceria avete mai pensato di utilizzare come input uno scarto di qualche altro e giustamente la conceria di cui rappresentanti ci guardava e ci diceva beh ma certo non è che non è che ci abbiamo pensato adesso ci abbiamo pensato qualche secolo fa effettivamente se si pone il problema in prospettiva storica forse si spiega anche perché le nuove generazioni non lo sanno tanto perché non hanno vissuto un tempo in cui appunto il recupero degli scarti era una prassi su cui si sono sviluppate moltissime moltissime aziende per ragioni quasi fisiologicamente connesse a certe tipologie di trasformazione soprattutto nel settore nel settore alimentare quindi da questo punto di vista assolutamente un assist da cogliere mi è piaciuto anche l'ultimo l'ultimo riferimento al fatto che si diceva potremmo farlo tutti ma effettivamente credo che questa non sia una certificazione fatta tanto per far competere una conceria con l'altra credo che questa sia una certificazione che serva molto anche al settore per legittimarsi e per avere chiaro un punto che in realtà come dire accomuna tante concerie più che più che diciamo decidere della loro chi di loro è più competitivo ma su questo magari ci torniamo anche successivamente perché è sicuramente uno spunto per un'ulteriore riflessione vorrei chiedere a questo punto a Piero Rosati di Incas che saluto con il quale giustamente abbiamo ricordato fuori onda che ci siamo visti tanti tanti anni fa in contesti di convegni molto molto gradevoli e volevo chiedere la sua opinione e soprattutto la sua esperienza quanto appunto hanno giocato spinte competitive quanto ha giocato il percorso invece di responsabilità etica e sostenibilità già intrapreso nell'azienda e quanto invece l'opportunità di cogliere questa ulteriore certificazione come un elemento di rafforzamento aggiuntivo da spendersi dal punto di vista competitivo dove nasce l'attenzione nei confronti di questa certificazione o anche la richiesta che questa certificazione esistesse per poterla giocare nelle strategie dell'azienda buonasera a tutti ringrazio tutti i partecipanti che da dati che ci ha fornito la regia sembrano essere molto numerosi il che è molto importante e positivo per il nostro settore entro subito nello specifico dell'argomento diciamo la scintilla in qualche modo che ha fatto nascere questa esigenza per la nostra azienda è stata sicuramente l'indagine promossa da Unice Unice con questa indagine a livello globale sui mercati del mondo sui principali nostri clienti principali stati del mondo ha messo in evidenza in maniera eclatante e anche cruda direi questa necessità di comunicare alla maggioranza dei consumatori che in realtà le pelli che utilizziamo sono un recupero dalla filiera alimentare è un sottoprodotto della filiera alimentare e tra i consigli che venivano dati nel 2019 all'inizio sono stati fatti propri dai consiglieri ma poi estesi ovviamente a tutti gli associati come nei compiti di Unice è stato detto proprio che la principale esigenza lo leggo le caratteristiche da certificare al numero uno cioè non si uccidono gli animali appositamente per estrarne la pelle quindi questo percorso esizia esattamente in maniera eclatante nel 2019 poi cosa è successo nel frattempo non si parlava ancora espressamente da clienti c'erano delle idee un po' confuse vaghe poi improvvisamente sono cominciati ad arrivare i primi questionari e anche le prime richieste esplicite dove si chiedevano delle dichiarazioni in cui si attestava che la pelle non veniva da animali allevati uccisi appositamente per la pelle stessa e a un certo punto c'è stato un qualcuno che ha detto si dice ma qualche documento magari i più comuni mortali no non voglio dire le firme le grandi firme internazionali i brand della moda ma anche i più comuni mortali ma qualche pezzo d'appoggio così in maniera molto semplice il che insomma ci ha fatto riflettere moltissimo questo percorso che Unic ha saputo cogliere fin dall'inizio poi portare avanti sviluppare e arrivare a dei dati precisi è stato veramente fondamentale poi la nostra azienda ma penso anche altre aziende del settore come è normale all'inizio si sono posti come obiettivo la sostenibilità quindi sono entrati nelle varie certificazioni ambientale sociale economica manifesto di sostenibilità e poi questa sostenibilità che all'inizio era tra gli obiettivi è diventata in realtà una guida cioè ti devi muovere oggi secondo i principi di sostenibilità di economia circolare che come ha detto il professore Rilardo è nel nostro DNA che noi ce l'abbiamo ma non lo sappiamo dire non lo sappiamo inscrizionare non lo sappiamo comunicare questo grosso difetto in realtà ci ha messo in una situazione di difficoltà che con la storia del covid scusate se la definisco storia in realtà è una cosa molto più grave e seria ma ormai è storia ha messo in evidenza ancora ha allargato questo gap perché la conceria ha mancato di promuovere di comunicare di far sapere di far conoscere e quindi siamo rimasti veramente fermi un anno e mezzo quasi due anni abbiamo perso dobbiamo recuperare alzarci sui pedali perché poi questa questa certificazione che poi ci va a garanzia che è certificata da Ete Terzo io condivido pienamente quello che ha cominciato da accennare il professore Iraldo cioè questa certificazione avrà una valenza nel momento in cui ci sarà un'omogeneità d'approccio quindi ci dovranno vedere tutti insieme in primis le concerie associate a Unice ovviamente perché qui stiamo parlando di associati Unice e insieme concordemente tutti i nostri clienti che poi sono gli stessi che dovranno veicolare al mercato noi faremo i nostri scorsi poi parleremo di modalità di comunicazione di approccio di social eccetera che poi sono frasi scontate però in realtà l'informazione deve venire da un'unica fonte altrimenti non arriva cioè la conceria Incas io parlo ovviamente al nome della nostra azienda si comunicherà sui propri social sui propri siti web sulla carta stampata sulle fatture sulle lettere sugli inviti alla fiera da tutte le parti che utilizza pelli per la propria produzione che sono un recupero di prodotti della filiera alimentare però chiaramente questo messaggio è limitato cioè deve deve esplodere deve arrivare da tutte le parti perché non si creda che non solo non sono solamente consumatori che sono all'oscuro in gran parte di questa realtà così semplice ma anche la nostra clientela devono essere formati noi abbiamo questo compito questa mission e io sono veramente soddisfatto di quello che sta facendo Incec abbiamo colto l'occasione ovviamente di certificare la nostra produzione prima possibile però non è che siamo più bravi degli altri ce ne sono tantissimi colleghi che sono in grado che saranno in grado di certificare ben vengano perché daranno forza al settore grazie mille grazie mille mi ha fatto venire in mente una domanda che però ho visto già anche proviene dal pubblico quindi magari torno e gliela faccio dopo volevo ricominciare a questo punto il giro di tavolo ma con una domanda che avrà risposte sicuramente molto più rapide credo che sia determinata quasi esclusivamente da una mia curiosità però magari nel rispondere riuscite a fornire anche qualche indicazione che può solleticare l'interesse anche di chi ci sta ascoltando torno quindi da Andrea Sapri per chiedere una cosa anche se volete molto banale però adesso avete la certificazione appunto queste tre aziende rappresentano l'avanguardia come intendete utilizzarla cioè anche a prescindere dai motivi che vi hanno spinto ad arrivare fin lì se doveste fare un piano d'azione a questo punto per valorizzarla quali sono le mosse che intendete fare nei confronti dei clienti della filiera del consumatore anche solo della comunicazione istituzionale però diciamo quali sono le carte che ritenete di potervi giocare allora la domanda sembra semplice che merita una risposta più breve in realtà è una delle domande che spesso volentieri riassumiamo nel come quantifichiamo poi la sostenibilità in maniera operativa cioè come la trasformiamo in strategie di azione e di attività poi sul campo non è una risposta semplice sicuramente per quanto abbiamo potuto vedere noi come come Dani fin da subito anche se effettivamente la certificazione è freschissima di prima diciamo dell'estate ha ricevuto un notevole riscontro da parte dei nostri clienti molti perché non si aspettavano questo tipo di certificazione e infatti sono molto d'accordo con gli interventi precedenti mi sento di dire che a volte in questo caso le concerie sono anche più attente a volte addirittura degli stakeholder con cui diciamo si rapportano su queste tematiche qui siamo stati un po' precursori secondo me di questo tipo di attività e io credo che una delle possibili perché non ce n'è una sola ma delle possibili strade da percorrere è sicuramente quella della comunicazione intesa come la possibilità per l'azienda per la concedia di comunicare al cliente una serie di informazioni in maniera omogenea e strutturata che non è solo il claim ma almeno anche nel nostro caso legandole alla tracciabilità è quella di poter fornire delle informazioni che fino a qualche anno fa erano molto più difficili da fornire esempio attraverso la certificazione di tracciabilità che abbiamo fatto grazie appunto a Dicek e a Unic legata al claim possiamo fornire ai nostri clienti una serie di informazioni come quella dell'origine del grenzo dell'origine della macellazione fino alla zona o al singolo allevamento e quindi poter dare al nostro cliente le informazioni sull'allevamento degli animali e quindi all'animal welfare piuttosto che alla macellazione e quindi a tutte le garanzie di tipo sanitario ha una certificazione di tracciabilità a monte e interna poi all'azienda come il made in e quindi al cliente arriva una specie di carta di identità legata al prodotto che in questo momento storico diventa importante e forse anche più importante a volte del prodotto stesso e quindi si va veramente a trasformare un qualcosa che è sostenibilità ma in realtà sono poi una serie di attività operative perché bisogna anche poi trasformare i concetti in operatività e secondo me la carta vincente è questa in questo momento cioè garanzia di informazioni di informazioni che si possono poi e giustamente ha ragione il collega che è intervenuto prima dare ai nostri clienti in maniera omogenea in modo che li sappiano anche utilizzare a loro volta nei confronti dell'utilizzatore finale in maniera chiara semplice e efficace grazie ottimo ottimo grazie grazie mille per questi spunti chiedo appunto se ci si ritrova in questo inquadramento che mi sembra abbia degli elementi molto chiari in realtà la comunicazione di questa particolare di questo particolare claim può avvalersi di un contesto rafforzato di tutta un'altra serie di informazioni che vengono poi comunicate in modo organico lo chiedo a Cecilia Fochesato appunto di Rino Mastrotto Group se ci si ritrova in questa ricostruzione oppure se voi invece pensavate anche ad azioni specifiche di valorizzazione di questo claim magari non so se è legato a specifico prodotto oppure con certe tipologie di clientela quindi più organica più focalizzata che tipo di valorizzazione avete in mente cosa vi attendete di riuscire a ottenere ecco se mi rilaccio anch'io agli interventi precedenti intanto per dirvi che avessi variato un pochino dopo il gruppo dagli quindi io ho ricevuto i certificati proprio questa settimana perciò non abbiamo ancora avuto modo di capire il feedback da parte dei nostri stakeholders perché non li ho ancora comunicati anch'io la vedo una cosa più organica lo vedo ce l'abbiamo parlato anche più volte fra noi come un tassello del puzzle della sostenibilità penso che tutti stiamo andando avanti secondo questa direzione e quindi all'interno delle comunicazioni istituzionali dei social del bilancio di sostenibilità di tutta la pubblicità insomma aziendale che facciamo penso che verrà introdotto anche anche questo aspetto e volevo solo precisare un po' per valorizzare quello che noi abbiamo già fatto anche per incentivare l'implementazione di questa certificazione anche le altre concerie sicuramente molte saranno presenti soprattutto quelle che hanno già fatto il sistema di gestione della tracciabilità che veramente il passo in più è molto breve cioè noi l'abbiamo fatto in due step noi l'abbiamo fatto insieme a maggio abbiamo fatto il sistema di gestione della tracciabilità secondo l'ATS 412 e qualche settimana dopo abbiamo fatto questo l'agio che è durata un pochino aumenta perché ci sono altri documenti da certificare da validare però collaborazione con la collaborazione ottima che abbiamo avuto con l'ICEC mi sento di dire che non è una certificazione come altre certificazioni che abbiamo portato avanti che magari può spaventare l'azienda e quindi spero veramente sia un incentivo per arrivare a una certificazione diciamo di settore in modo da avere un rafforzamento proprio di tutto il distretto di tutto il settore conciario grazie grazie mille grazie mille nel porre la domanda anche a Piero Rosati la arricchisco di una dimensione che proviene direttamente da una delle domande che stanno cominciando ad arrivare dal pubblico e che diciamo pongo a lui perché ha citato il tema delle firme e dei brand c'è un partecipante diciamo che è particolarmente preoccupato di come i brand o comunque sensibile a come i brand recepiscono o potranno recepire questo tipo di claim prima chiede appunto avete visto quanto vi attendete che il claim sarà valorizzato dai brand a propria volta magari è un'arma che si dà anche ai brand per poter comunicare in modo più efficace a chi evidentemente a loro porrà più o meno le stesse domande le stesse percezioni che pone a voi e dall'altra parte chiede quali azioni si possono intraprendere per poter spingere i brand a capire il claim a diciamo unirsi in questo sforzo di rendere questo aspetto più chiaro lo chiedo a Piero Rosati naturalmente non per limitarmi a questo argomento ma diciamo chiedendo a lui che cosa c'è in programma da parte di Incas per la valorizzazione competitiva e se riesce a dare una risposta anche a questa domanda rivolta in particolare al tema dei brand allora domanda un po' complicata comunque la valorizzazione competitiva nasce in questo in questo ambito devo essere chiaro allora Incas ha sviluppato a parte come ho detto prima di avere come linea guida primo obiettivo linea guida sostenibilità muovendosi proprio su questa strada ha sviluppato una serie di prodotti che vanno in tal senso quindi prodotti che hanno ridotto impatto ambientale eccetera eccetera non voglio stare a reclamizzare ovviamente la mia produzione però a un certo punto dopo aver avuto la certificazione di processo ci siamo accorti che era zocco perché sì la produzione era ecologica l'utilizzo di prodotti proibiti non c'era tutto quanto però mancava la partenza mancavano le fondamenta le fondamenta sono ovviamente la materia prima pelle avevamo posto l'attenzione alla materia prima prodotti chimici alla materia prima acqua energia eccetera eccetera quindi quello che era inerente al processo ma ci mancava veramente le fondamenta e le fondamenta sono rappresentate da questa semplice cosa che continuo a ripetere perché mi è piaciuto moltissimo è nel DNA delle concerie italiane quindi il fatto poi dobbiamo riandare avanti il fatto di come intendiamo comunicare a brand io credo che sia penso forse sono un sognatore forse direte non è così però mi permetto di esprimermi in questo senso ma avendo visto come le esegici di questa di questa domanda cioè questa viene dalle firme stesse che ce l'ha posta nel tempo ultimamente quindi è semplice andiamo a colmare un vuoto ad accontentare a spiegare questa cosa quindi saranno loro che dovranno farsi portatori nei confronti del consumatore finale noi lo faremo e avrà un senso se lo faremo come associazione di categoria perché noi non ce lo scordiamo professore il marketing ci insegna che noi facciamo un prodotto intermedio e che quindi non abbiamo possibilità di accesso o quantomeno è difficilissima è stretta la porta di accesso al mercato finale al consumatore lo sappiamo benissimo e quindi insomma dobbiamo dobbiamo sperare che questo che questo mio sogno che però insomma è la realtà che in qualche modo si faccia avanti da solo che sia un qualcosa un effetto positivo il famoso effetto positivo che poi si estende automaticamente a tutto e in questi casi devo dire che il ruolo delle associazioni così rispondiamo anche a un'altra delle domande che è stata fatta da un partecipante è determinante perché appunto riesce ad aggregare una serie di forze che da sole nei confronti magari del singolo brand avrebbero poca presa e invece tutti insieme possono arrivare con un messaggio molto più forte in grado magari di far sì che i brand drizzino un po' le antenne e capiscano come effettivamente queste variabili possano essere comunicate anche in modo efficace a valle cioè quelli che sono i loro clienti che poi sono il target che anche voi indirettamente mirate a raggiungere se parliamo di marketing un semplice esempio leggo purtroppo ormai sulla stampa al di là delle notizie di cronaca che sappiamo tutti si legge sempre più spesso di questi prodotti calzature borse realizzati con materiali alternativi dicono loro alla pelle ecosostenibili e questi ci parlano l'ultimo per ordine grado Luca ne ha conoscenza perché quando succede qualcosa di genere si interviene sempre come associazione si cerca di dire la nostra di fare la querela dove lo possiamo fare ci sono le modi di azione che ormai sono consolidati e qui si parla che il 25% del prodotto non voglio dire scarpa borsa vestito perché si capisce di cosa si tratta è rappresentato da plastica riciclata ma cosa vuol dire cioè cosa vuol dire plastica riciclata ma è plastica è un prodotto del petrolio ma si sta scherzando ma ci fanno entrare il famoso green washing o l'economia circolare perché si ricicla la plastica ma il problema da dove viene la plastica noi a differenza di loro abbiamo la verità in mano da dove viene la pelle lo stiamo dicendo qui il tema si fa delicato si aprono degli scenari che appunto bisognerebbe diciamo includere molti altri attori per poter metterli magari anche un pochino di fronte alle responsabilità di quello che dichiarano e lì secondo me c'è solo una risposta possibile che è quella della scienza bisognerebbe misurare gli impatti ambientali e valutarli serenamente con degli strumenti che siano metodologicamente fondati e poi andare a vedere se e quanto diciamo le diverse pratiche possono dare dei risultati che tra di loro dovrebbero poter essere confrontabili quando la funzione è quella di un prodotto analogo per lo stesso uso bisognerebbe procedere così ci sono ancora un paio di domande che sembrano fatte apposta una per Luca e l'altra per Sabrina quindi io se siete d'accordo chiuderei così ve le faccio insieme così per cavalleria prima a Sabrina e poi a Luca quella per Sabrina la parte di un partecipante è molto chiara ed è secondo me anche diciamo condivisibile dal punto di vista della solidarietà perché il partecipante dice caspita le concerie sono sottoposte sempre a tutti questi stimoli poi fanno le rincorse per prendere la certificazione le idee sono tante le opportunità sono tante ma poi bisogna che ci sia il riscontro sul mercato per cui chiede e penso di rivolgerla a Sabrina perché ha a che fare con molte aziende che sul tema della certificazione chiede come reagiscono poi le concerie a questi ulteriori stimoli e al doversi mettere in gioco per certificazioni nuove e invece a Luca lo dico subito così l'anticipo così poi si riesce a rispondere immediatamente un'altra domanda che ritengo abbastanza interessante in coerenza con anche quello che stiamo facendo con Unice un partecipante dice sì economia circolare è sicuramente il dove vado a prendere la materia prima in questo caso lo scarto un sottoprodotto anzi però dall'altra parte c'è l'economia circolare anche eventualmente dei prodotti finiti e rifiniti quindi chiede questo partecipante Unice o l'industria conciaria sta pensando anche ad azioni di economia circolare in senso più ampio magari rivolte a valle potrei rispondere anch'io perché sono di tante sperimentazioni ma chiedo a Luca che sicuramente è più aggiornato di me allora prima sentiamo Sabrina e poi chiudiamo con Luca grazie chiedo scusa subito agli altri partecipanti che ora stanno facendo domande ma per ragioni di tempo non riusciamo a starci cerchiamo di rispondere per iscritto sì allora sicuramente lo sviluppo di nuove tematiche ha portato a nuove richieste di certificazione non è che le concerie siano sempre felicissime ogni giorno di avere a che fare con una certificazione nuova perché ovviamente è un costo è un impegno quindi sicuramente lo fanno volentieri per il loro mercato ma c'è anche da dire che quello che io vedo è che la tendenza che appena abbiamo colmato insieme un buco una tematica con un servizio e una certificazione nel giro di poco comunque si creano nuove necessità nuovi claim nuove richieste quindi sembra sempre un percorso infinito quello che noi cerchiamo di fare in questo momento io parlo con enti di certificazione al nostro lavoro e quindi come vedete cercare di proporre comunque dei servizi chiari precisi specifici ma allo stesso tempo che si possano integrare e che non siano nemmeno per certi aspetti troppo onerosi come si diceva prima per questo claim che ha la possibilità di integrarsi con altri aspetti poi questo non vieta ovviamente di dialogare anche con altri competitor con altre parti perché il riconoscimento è fondamentale per far sì che vengano apprezzati richiesti ma anche apprezzati conosciuti e soprattutto la semplificazione dove fosse possibile anche con altre piattaforme di lavoro analoghe per far sì che certi controlli non si ripetano da parte di soggetti diversi ma per le stesse finalità quindi questo noi cerchiamo di fare il nostro lavoro in questo senso chiarissimo chiarissimo quindi vanno valorizzate anche le sinergie effettivamente come già tu hai messo in evidenza nel tuo intervento fra diverse forme di certificazione che poi se andiamo a scavare insomma le azioni che garantiscono la tracciabilità e gli impatti ambientali poi molte volte risalgono alle stesse modalità di gestione aziendali che possono essere documentate una volta sola Luca Boltri a questo punto a chiudere tema dell'economia circolare in senso più esteso programmi per il futuro e così chiudiamo con una prospettiva allora la domanda della partecipante è molto interessante e sinceramente credo che sia una delle priorità per moltissimi moltissimi brand noi questo non possiamo nasconderlo noi rappresentiamo le concerie quindi promuoviamo la concia promuoviamo le pelli lavoriamo ovviamente sulla sostenibilità delle pelli e quindi da quel punto di vista lì possiamo dire tante cose è ovvio che quando parliamo di prodotto finito in primo luogo parliamo di una pletora di prodotti finiti perché l'alzatura è diversa da una borsa che è ben diversa da un divano che è ben diverso da un interno auto quando si parla quindi noi sicuramente quello che diciamo è beh innanzitutto già partire se mettiamoci nei panni di un cliente di un manifatturiero finale che vuole lavorare sull'economia circolare beh innanzitutto partire utilizzando un materiale che è circolare per natura come la pelle sicuramente aiuta partire da un da un materiale che non ha questo tipo di caratteristiche ma magari è un derivato da fonti non rinnovabili ricordiamo che la pelle arriva comunque da fonti anche da fonti rinnovabili se vogliamo sviscerare questo tipo di concetto quindi già partire da un materiale di questo tipo sicuramente aiuta prodotto finito poi ovviamente prodotto finito va anche capito quali sono anche gli altri materiali allora economia circolare recupero ok come posso tra virgolette gestire il recupero per esempio di una calzatura a fine vita piuttosto che come posso gestire il recupero di un divano a fine vita queste sono domande che vi dico sì sono effettivamente credo sui tavoli di tantissimi brand e noi sappiamo di progetti ma penso Fabio che poi ne conosce anche tu poi sono ecco forse una cosa importante a dire siamo in una fase ancora di piccolo progetto nel senso cosa posso provare a fare per recuperare i miei prodotti non siamo ancora entrati a pieno titolo nella chiamiamolo in una dimensione sistemica partono i grandi progetti in cui si mettono in piedi delle filiere di recupero su dei prodotti specifici la calzatura progetti specifici di recupero della calzatura la difficoltà ovviamente è che quando parliamo di un materiale il recupero sostanzialmente non dico che è semplice però il materiale è quello un prodotto finito è stato assemblato quindi in primo luogo c'è la problematica legata al disassemblaggio c'è l'assemblaggio e il disassemblaggio tanto più che se ragioniamo da questo punto di vista sono tantissimi i brand soprattutto nella moda che stanno cominciando a ragionare sull'assemblaggio in maniera tale che sia semplice il disassemblaggio esattamente piuttosto che si parla di design legato al monomateriale se io ho un prodotto finito fatto con un unico materiale una volta che è disassemblato dovrò gestire il recupero o quello che sarà di un solo materiale non dovrò andare a pensare a ok la pelle va di qua la minuteria metallica va di qua la gomma andrà di qua insomma è ovvio che si complica è una secondo me è una grandissima sfida se parliamo di di economia circolare e forse sarà anche su questo su cui ci sarà tra virgolette un po' di di concorrenza quando parliamo di sostenibilità dei beni di consumo moda o altro per il futuro la questione ovviamente è più complicata quando parliamo magari di prodotti più ambi e complicati come può essere un'auto come può essere anche un divano anche solo per questioni volumetriche di gestione del prodotto a quel punto lì magari si può incominciare a ragionare sul concetto e anche qui apriamo una porta la chiediamo subito perché sennò dovremmo stare probabilmente a parlare per altre ore per esempio della biodegradabilità o della compostabilità del materiale e del prodotto finale anche su questo tema la pelle ha delle caratteristiche che la rendono estremamente competitiva dal punto di vista sostenibilità nei confronti di materiali alternativi quindi parliamo di economia circolare in generale o parleremo di recupero o parleremo di maggior o minor capacità di biodegradabilità barra compostabilità non entro nel tema di un vista tecnico che è estremamente complicato non abbiamo il tempo non ho neanche virgolette di competenza a livello personale però ecco diciamo che lo stato suo al momento da questo punto di vista è ci sono tanti progetti in ballo ma forse a livello sistemico non si è ancora pensato come ragionare assolutamente confermo la scala della sperimentalità per molte di queste idee ed è verissimo che i due filoni di sollecitazione che potranno provenire dal contesto esterno alle concerie in futuro saranno essenzialmente proprio questi che poi sono tutte e due riconducibili dall'eco design se ci pensi come scelgo i materiali e come disegno il prodotto però questo è più dell'industria a valle cioè è più di chi effettivamente confeziona la giacca come dire produce la calzatura o il divano eccetera benissimo io vi ringrazio davvero molto ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato quindi nell'ordine di apparizione appunto Luca Boltri Sabrina Frontini Andrea Sarpi Cecilia Fochesato e Piero Rosati ribadisco che alcune delle domande che adesso arrivano ma ormai abbiamo tempo molto contingentato troveranno risposta per iscritto anche se vedo che alcune delle chiacchiere che abbiamo fatto durante quest'ultima parte della tavola rotonda già rispondono ad alcune delle domande e se volete fare un saluto finale Luca e Sabrina o diamo appuntamento ai prossimi incontri io volevo ringraziare tutti ringraziare te Fabio in prima battuta perché come sempre in questo tipo di argomenti di attività sei estremamente prezioso perché hai delle competenze e del know-how che è difficile trovare trovare in giro io invito tutti ovviamente a visitare settimana prossima da mercoledì a venerdì Linea Pelle che torna a distanza di un anno a Milano dal 22 al 24 i temi della sostenibilità per ancora una volta saranno protagonisti dell'esposizione con tanti incontri tante iniziative noi siamo a vostra disposizione sia come Unici che come ICE per quanto riguarda le certificazioni per cercare di fornirvi tutte le informazioni che abbiamo a disposizione sui temi della sostenibilità o su altri temi legati alla filiera pelle vi invito ancora a venire a Milano è sempre un modo beh innanzitutto un modo anche forse per dare un segnale che dobbiamo ricominciare dobbiamo riprenderci la nostra vita la nostra quotidianità e secondo noi partecipare a questi eventi di mercato che sono essenziali perché in pochi giorni ci si riesce a vedere tra virgolette tra i stakeholder di filiera non solo i clienti ma anche i fornitori i partner i consulenti è secondo noi importantissimo amiamo per l'amore del cielo e sfruttiamo la tecnologia come in questo caso per poter parlare magari in maniera più semplice a una platea ampia però crediamo che il contatto umano sia una questione imprescindibile speriamo di poter appunto tornare a come dire a una vita di socialità normale il prima possibile e speriamo che l'Inea Pele settimana prossima a Milano possa essere una prima occasione da questo punto da questo punto di vista grazie Fabio grazie grazie a te grazie a tutti grazie anche all'azienda ovviamente grazie grazie Rosati grazie Fochisato e Mastrotto e grazie Sapri per la vostra partecipazione per noi è importante comunque avervi protagonisti anche in questo tipo di iniziative arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti